Ragazzi siamo su Roblox Castelvisse! Zitto! Se sono da verso verde, non devi fare neanche un video Ma ci sono da saluto, al commento Allora, vogliamo questa musica che è Lerl È bella, però la voglio fare Allora oggi siamo in compagna dei nostri vecchi amici Cioè non sono vecchi Oggi ho uscito un video speciale Andatelo a vedere Uiii! Che bello ragazzi Vi do anche spoiler Sì, certo. Allora, vi do qualche spoiler. Scaliamo qualcosa, qualcosa, ma non vi diciamo più niente. Il gioco l'ha giocato anche Stef Fede, ma non vi dico più altro. Ecco, ma si è giocato il scherifo. Allora, prima di cominciare a partire... Ma questo è il cappello di foglie. Vabbè, strano. Salute la nostra, questa qua. Iniziamo con Bianca 007. Sì, è bella la schiena, è molto bella. Poi, salutiamo la mia bellissima fidanzata. Oh, stai ferma? Stai ferma! Oh, saluta anche la migliore amica di Bianca. Questa non la saluto perché è antipatica. Eh, saluta lì, c'è, che non è benvenuta. Sì, e salutiamo anche c'è, sono io. Cioè... Lei è un amico di Bianca, la vuoi salutare? Lei. Lui? Sì. O lei? Glutters. Glut... Ah, allora, dai, saluta un glutters. Ciao, glutters. Allora, mi cominciarono la partita. Comunque, raga, Bianca, ti seguo. Eh, pochi giorni fa ho preso una pistola. Ho preso una pistola, è Godly, e l'ho scambiata per la Prismatics. Secondo voi, ho fatto bene? Scrivete nei commenti se ho fatto bene. Secondo me, sì. Perché questa costava anche Robux, quindi... Però quella è incredibile. Questa qua non ci trova più, infatti. È una piste, è una coppia bellissima. E ora dico con l'Earthbrite, con... Tra poco! Eh, prendiamo una cassa, però lo prendiamo nel prossimo... Oh, madonna! No. No! Dai, non spararla, puretta! No, non la uccide. No, no, non la uccide lì. Ma ti uccide? No, veramente ti uccide. Tutto il po' su stilindro. Sì, spisa. Mamma, sto resistendo. Ssh! Uè! Frate! Uè! Non abbiamo ormai gli uguali! Ah! Sì, ridico, ora con quella macchina. Oh, madonna! No, no! Ma che l'altro, Rosa! Ma killala! No? Volevo fare una cosa. Ma porca miseria, no! Rip! Vabbè, gun! Ma bianca, prendi gun! Basta qua, tipo qua. Eh, la stai morta. Rip, rip. Rip, rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. Eh, vabbè. Rip, rip, rosa. Uff! Eh, uff! Non salti, porca miseria! Eh, vabbè. Dicevo, salutiamo questa. C'è un salice. Farò stelto solo due. Scusa, che carina. Dove lo sentite? Oh, madonna! Questa fa ansia! Scusa, fa niente, fa niente, fa niente. A, n, n, e largo. Uè, mi stai messo giocando tutti su Discord! Dallora è mia... Dao, lice, dao, bianca. Dao, bianca, haha. Largo. Allora, ragazzi, entrate nel mio gruppo di roba su Discord. Si chiama, esatto, com'è che si chiama? E mettete a vero 34, tra parentesi, Roblox. Tra parentesi, ho chiuso la parentesi. Andate a seguirmi su Rob. E gluters, e gluters! Ragionate nel mio gruppo di Roblox. Gluters, come on there? Wow. E gluters, come on there? E gluters, no, che l'ho ucciso. Gluters, gluters. Oh, madonna. Guarda qui! Vai Alice! Rip, Alice! Jakub! Non devi starmi uccidere le persone molto quando fanno la camper, però il bianco fa due team o fa l'altro, fa l'altro, cioè vabbè, farà come lei vuole. Oh madonna, questa fa ansa sta skin, madonna. Alessia Vella e Giulia Vella. E adesso è anche triste, adesso è triste perché lei è sannifo, capito? Oh madonna, la sannifo è che vola, 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 vola. Perché sono proprio blu, che riuscita, blu. Non devi esaltare i Glutters, che è una petta di namba. Che? Glutters. Ragazzi, ho inate nel mio gruppo di Roblox. Ma, vedete? Scusateli. E quanti c'è nel mio gruppo? Vabbè, ve lo metto il link in descrizione. Che quattro ce ne sono di Roblox nel tuo Discord? Sono Jamin4. Jamin4. Chi è? Rosa? Rosa? Jenny. Che Jenny? Che Jenny? Che Jenny? C'è una professione che sta lavorando lì. C'è, ecco. Secondo te? Oh madonna. Allora, come faccio a condividere il link? Ah, ecco come si fa. Eccolo, eccolo. Ecco, copio il link. Adesso lo metto alla fine del video. Ragazzi, metto il link alla fine del video. Metto il link alla fine del video. Aspetta, facciamo una cosa. Metto praticamente il link su Discord. Aspettate un attimo che sto porendo il video. Ecco, rieccomi. Vi andiamo che la mia giocca senza. Ok, senza. Vabbè. So Sheriff, Weeeel. Weeeel. Ma, weeeel. Ha fatto disconnetto? Ha disconnetto. Buonasera. Chi è muro da? E' questa qui capelli foglie. E' questa foglie. E' questa foglie. E' questa. Sta lì, ok. Vai su, guarda, come la spara, eh. Sai le armi che si spara adesso. E' crashato. Boom! Ha! Sta bene smagando che ho fatto ieri. La splash. La ragazza finiamo il video qua. Stiamo subito sui commenti, sui commenti, sui commenti, sui commenti, sui commenti e sui commenti sui video. Ciao ragazzi! Ciao! Al prossimo video spesso ci vediamo. Sì, ciao!